Proprio ieri la Commissione parlamentare europea che si occupa di politiche anti-cancro ha votato una risoluzione all'unanimità che dice che non esiste un livello sicuro di consumo di alcol. C'è chi dice che in virtù di questa delibera potrebbero togliere i finanziamenti ai produttori di vino, il divieto di pubblicità e mettere delle accise sugli alcolici come sulle sigarette. Lo teme anche lei? A me sembra una cretinata perché se ci impegnassimo a fare delle indagini di natura scientifica riusciremmo a mostrare tutto il contrario di tutto. C'è un'indagine che dice che i vini rossi contengono il resveratrolo che è lo spazzino delle arterie e ci sono degli studi che dimostrano che le malattie cardiovascolari in consumatori di vino rosso ad esempio del Bordeaux, la zona della Francia, sono a minore incidenza. Ma le potrei dire qualcosa ancora di più emblematico? A volte mi capita con dei giornalisti, vado nel cuore del prosecco e mi fermo in un incrocio dove c'è una vecchia osteria chiusa e la vecchia porta dell'osteria viene utilizzata per l'epigrafe. Ogni tanto mi fermo e dico guarda questi signori nell'epigrafe, non ce n'è uno che ha meno di 92-93 anni. E allora queste statistiche cosa ci dicono? Grazie. 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 Grazie.